Buonasera a telespettatori di Nettuno TV, benvenuto anche a chi ci segue in streaming su nettunotv.tv edizione delle 19.15 del telegiornale del canale 99. Apriamo subito con la cronaca. Sarebbe morto in seguito ad un malore, un 51enne, che questa mattina attorno alle 9.30 si è accasciato in strada mentre era alla guida del suo motorino in via Calzavecchio a Casalecchio di Reno. Secondo la ricostruzione della Polizia Municipale, l'uomo stava uscendo da un parcheggio ed è caduto a terra appena si è immesso in strada. Le condizioni del 51enne sono apparse subito molto gravi, trasportato in ambulanza all'ospedale maggiore e morto circa un'ora dopo il ricovero. Ancora la cronaca, una 74enne è rimasta leggermente intossicata in seguito all'incendio scoppiato nella notte attorno alle 2 nella sua casa di via Dagnini. È stata proprio l'anziana a dare l'allarme dopo essersi svegliata nel cuore della notte e aver visto le fiamme che hanno danneggiato soprattutto la cucina e un'altra sala. La porta dell'appartamento era chiusa a chiave così i vigili del fuoco hanno dovuto forzarla mentre un'altra squadra ha raggiunto l'alloggio che si trova al sesto piano con un'autoscala. Grazie all'intervento dei soccorritori arrivati in via Dagnini con 4 mezzi i danni sono stati limitati e non c'è stato bisogno di evacuare lo stabile. La donna dopo essere stata accompagnata fuori dal palazzo è stata presa in cura dal 118 e trasportata all'ospedale maggiore in codice 1, il più lieve. Secondo i vigili del fuoco l'incendio è di natura accidentale partito dalla cucina e sul posto è intervenuta anche la polizia. Cambiamo argomento si amplia la copertura dello wifi libero in Emilia Romagna. Da luglio infatti ci sono 183 nuovi punti di accesso gratuiti 24 ore su 24 che si aggiungono ai 3915 già presenti. Fra i nuovi punti ci sono anche lo stadio Dall'Ara di Bologna, la piscina di Lizzano in Belvedere nel Bolognese e piazza Costa con la vicina spiaggia a Cesenatico. Andiamo a sentire la soddisfazione ai nostri microfoni dell'assessore ai trasporti, Raffaele Donini. All'arrivare nel 2020-2021 a cablare tutti gli stadio, cioè contenitori massimamente affollati di cittadini, tifosi in questo caso, tutte le spiagge della Rivera e anche in particolare i comuni più turistici della nostra regione. Già oggi noi abbiamo raggiunto l'obiettivo che ce l'avevamo prefissati, cioè 4.000 punti wifi in tutto il territorio regionale che peraltro hanno avuto circa un milione di accessi negli ultimi quattro mesi. Questa sperimentazione porterà lo stadio Dall'Ara ad avere già dalla prima partita di campionato il wifi libero, veloce e gratuito di Emilia Romagna Wifi. Il comune di Vidiciatico, di Zanin Belvedere, nella piscina di Vidiciatico, lo stesso servizio, è anche già in funzione in questi giorni della Notte Rosa, diciamo così, nel comune di Cesenatico. Quindi abbiamo voluto svolgere questa sperimentazione per testimoniare che sì, ce la possiamo fare nel prossimo triennio di cablare tutte le spiagge, tutti gli stadio della regione, tutte le piazze dei comuni turistici per offrire sempre più servizi digitali ai cittadini e ai turisti. L'avete sentito anche dalle parole dell'assessore Donini, uno dei luoghi sarà proprio lo stadio Dall'Ara che in attesa del restyling che dovrà essere fatto con la nuova proprietà con Saputo, intanto ovviamente si dota di un wifi gratuito, il wifi Emilia Romagna. Allora andiamo a sentire anche la soddisfazione dell'amministratore delegato del Bologna Calcio, Claudio Fenucci. Un'iniziativa della regione Emilia Romagna che abbiamo colto con grande interesse perché va nella direzione della modernità, nella modernizzazione dell'impianto e quindi avremo il wifi che coprirà tutto il Dall'Ara e che probabilmente per quello che ovviamente l'infrastruttura tecnologica riuscirà a far connettere molti utenti direttamente, spero non durante le partite per cui siano comunque concentrati sempre sul nostro evento. No, però in realtà ormai in tutti gli stadi più moderni ovviamente c'è un'accessibilità al wifi facile perché questo consente alla società anche di trasmettere contenuti e di dare servizi. Recentemente l'anno scorso ho visto delle nuove app fatte per club importanti del nord Europa dove il tifoso veniva guidato sostanzialmente dall'uscita di casa fino all'ingresso allo stadio da un'app che gli dava indicazioni sul traffico, sui parcheggi, sulle file botteghini, sulle file bar. Quindi tutto va per migliorare l'esperienza che il tifoso vive venendo allo stadio e fornire di servizi oltre tutta l'interattività legata alle statistiche in tempo reale eccetera. Questo è quindi un primo passo, è stata creata l'autostrada grazie a quella lungimiranza della regione. Adesso si tratta di ovviamente mettere sull'autostrada le macchine, cioè fornire contenuti. Penso che un'app ad hoc verrà sviluppata da noi e partirà nella seconda parte della stagione quindi diciamo da gennaio e poi. La volontà ovviamente del Bologna FC è quella di poter dare quante più comodità possibili allo stadio per tutti i tifosi e anche e soprattutto per le nuove generazioni dei tifosi per cui sono appunto tanto attenti proprio a internet. Sentiamo ancora Fenucci. Sempre più partecipi quindi tifosi all'interno dell'esperienza Bologna, dell'esperienza partita, dell'esperienza stadio anche come si è presenti adesso nella nuova generazione, cioè tramite internet. Sì, ho ripetuto proprio l'altra volta nella presentazione di Falcinelli come non possiamo pensare di attirare le nuove generazioni negli stadi attuali quindi al di là delle esigenze di base, cioè ovviamente di avere poi uno stadio coperto, comodo, fruibile ci sono anche alcune cose secondarie ma per alcuni anche molto importanti come per tutto il pubblico giovanile dove poter restare connessi anche in presenza di molte persone e questo va nella direzione di, ripeto, di offrire sempre più servizio all'interno dello stadio non dimentichiamoci, non dimenticandoci che poi il primo è quello delle partite e quindi per cui insomma che la squadra faccia divertire i propri tifosi però in una visione moderna, soprattutto in un stadio comodo e fruibile poi avere dei servizi wifi aiuta a migliorare l'esperienza. E quest'oggi, sempre nell'occasione di questa presentazione, l'assessore alle infrastrutture della Regione Emilia Romagna Raffaele Donini è tornato a commentare le dichiarazioni dei giorni scorsi del Ministro Danilo Toninelli che ha frenato sull'idea di banalizzazione dell'intero tratto urbano della A14 promettendo un incontro a Roma a breve proprio col Governatore Stefano Bonaccini. Andiamo a sentire cosa ha detto. Beh, diciamo che le dichiarazioni di Toninelli hanno un po' rasselenato il clima e questo è un bene. Noi abbiamo colto con favore la sua posizione che ha appunto annunciato tramite i suoi uffici stampa, insomma che ha fatto filtrare e cioè che appunto non vi fosse nessun intento, diciamo così, nascosto rispetto al confronto con le istituzioni locali e quindi ci aspettiamo questa convocazione a Roma che peraltro il nostro Presidente Bonaccini è chiesto da molti giorni. Quindi in quella sede a livello tecnico ci confronteremo fuori le bandierine di partito, dentro gli argomenti seri, oggettivi, tecnici, fattuali per risolvere appunto il nodo Bologna e noi abbiamo la certezza che si arriverà a comprendere le scelte che questa amministrazione insieme al territorio di Bologna e della città metropolitana ha fatto, ovviamente abbandonando il consumo di suolo e un'opera molto impattante come il passante a nord di Bologna, scartando per ragioni economiche e per ragioni trasportistiche e ambientali il traforo del passante sud e invece mettendo mano ad un ampliamento in sede che appunto consentirebbe ad autostrade nel tratto urbano a 14 e alla tangenziale di avere quegli ampliamenti, quelle potenzialità in più per risolvere strutturalmente il nodo Bologna. Altre soluzioni a nostro giudizio non ci sono, ma ripeto, quando ci confronteremo con argomenti tecnici veri io credo che la discussione sia più facile. La conferenza di servizi può esaurire la sua funzione una volta convocata, immagino a settembre, in pochi mesi e dopo con il progetto esecutivo e il cantiere l'opera può essere già cantierata così come era stato previsto nel corso del 2019. Ancora la cronaca, al volante di un'auto stava andando contro mano in una via del centro di Bologna e quando i poliziotti lo hanno fermato hanno scoperto che la macchina era anche rubata. Per questo motivo un moldavo di 25 anni è stato arrestato stanotte dopo le due in via Nazario Sauro con l'accusa di furto e ricettazione. Il giovane a bordo di una scoda una volta fermato ha cercato di evitare il controllo e agli operatori della 113 è apparso subito molto nervoso. Inizialmente ha spiegato di aver avuto l'auto in prestito da un amico ma dai primi accertamenti è risultata di proprietà di un modenese di 42 anni che ne aveva denunciato il furto. Addosso al 25enne i poliziotti hanno trovato un coltello multiuso e perquisendo la vettura è stato rinvenuto anche uno zaino con due pc e il portafoglio di una ragazza che aveva denunciato a sua volta un furto in casa il 7 luglio. Cambiamo pagina, parte la quinta edizione di Lagolandia, il progetto di valorizzazione territoriale dei laghi dell'Appennino. Si parte il 21 luglio da Castel dell'Alpi con tre fine settimana che serviranno per scoprire le curiosità nascoste dell'Appennino. Ci presenta a Lagolandia Stefania Marconi, organizzatrice dell'Evente. La Lagolandia è un'iniziativa nata cinque anni fa quindi giunta quest'anno alla sua quinta edizione e per il secondo anno consecutivo si svolgerà su tre weekend e coinvolgerà quattro laghi. Ricordo che siamo partiti cinque anni fa con il solo lago Brasimone e poi negli anni ci siamo allargati fino a coinvolgere quattro laghi che sono il lago di Castel dell'Alpi, i bacini di Suviana e Brasimone e il lago di Santa Maria. Esattamente in questo ordine in cui li ho citati. Lagolandia è un progetto di valorizzazione e che promuove nuove modalità di fruizione dell'Appennino bolognese che è un territorio meraviglioso, spesso purtroppo poco conosciuto e poco frequentato e che ha subito negli ultimi 20-30 anni un grosso fenomeno di spopolamento e di disaffezione da parte dei bolognesi così come anche sul versante toscano, i toscani che usavano frequentare, andare in villeggiatura in Appennino. Da qui il sottotitolo villeggiatura contemporanea perché cerchiamo di promuovere nuove modalità di fruizione di questo territorio. Quindi ad esempio raggiungerci per il weekend, rimanere con noi, frequentare le nostre attività a Bordolago, iscriversi ai sentieri, camminare, esplorare. Insomma l'idea è questa, conoscere il territorio. Dal 10 luglio all'1 settembre il cortile del Pozzo di Palazzo Renzo verrà trasformato in un jazz club sotto le stelle, grazie alla nuova rassegna organizzata da Cantina Bentivoglio. Ce ne spiega i dettagli Alberto Armaroli, direttore artistico della Cantina Bentivoglio. Noi siamo molto emozionati, molto felici di aver avuto ricevuto dall'assessore questa opportunità. È un luogo che è storico, come lo siamo noi, ed è di grande importanza. Noi vogliamo comunicare a tutta la città che la musica dal vivo si può ancora fare, che c'è un seguito che è cospicuo e ci auguriamo che Bologna colga l'occasione per dimostrare che è una città viva e che sa ancora tirare tardi la notte, bere bene, mangiare bene e ascoltare buona musica. Allora, sì, noi come Cantina Bentivoglio forniremo anche cocktail bar, vini, ovviamente delle birre, birre artigianali e soprattutto portiamo la nostra esperienza per organizzare una buona programmazione. La programmazione non esiste, l'apertura del locale senza concerti, perciò se il locale è aperto qualcuno prima o poi suonerà. Fino a che adesso andrà avanti circa, c'è un'idea dell'orario? Allora, dal lunedì al giovedì la musica sarà da mezzanotte fino alle 2, l'apertura del locale invece sarà sempre dalle 19 alle 3 di notte, invece il venerdì e sabato il concerto durerà fino alle 2 e mezzo. E la soddisfazione dell'assessore alla cultura Matteo Lepore per il fatto che questa iniziativa possa essere anche un modo per abbattere il tabù della musica fino a tardanotte. Con questa manifestazione rompiamo finalmente un tabù che è quello della mezzanotte, si torna a fare musica anche di notte a Bologna, lo facciamo sperimentando una rassegna jazz che sarà a Palazzo Renzo da mezzanotte fino a mattina, tutto il mese di luglio e tutto il mese di agosto, quindi siamo molto contenti di aver lanciato questa sfida. Con il cinema in piazza non ci si vuole pestare i piedi fondamentalmente, anche questo un po' il discorso legato all'orario? Assolutamente no, anzi invitiamo tutte le persone che usciranno dal cinema in piazza proprio a rimanere per il jazz a Palazzo Renzo, probabilmente non ci sarà spazio per tutti ma la rassegna sarà lunga e se andrà bene penso che potremo anche ripeterla in futuro, non solo in quello spazio ma anche in altri. Valerio Veronesi è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Bologna, lo ha detto il nuovo Consiglio dell'ente con 18 voti favorevoli e 4 schede bianche, Veronesi è un imprenditore meccanico, presidente della CNA di Bologna e vicepresidente della CNA nazionale, succede a Giorgio Tavellini. Ancora alla cronaca, ha derubato un'anziana entrando in casa sua dopo averle raccontato che raccoglieva indumenti usati per una parrocchia. È successo nei giorni scorsi, nei pressi dell'ospedale Sant'Orsolo, l'episodio che ha visto vittima una donna di 85 anni è stato denunciato poi alla polizia. La pensionata ha riferito che alla porta del suo appartamento ha suonato una giovane donna ben vestita dicendole che stava raccogliendo abiti per conto della chiesa. L'anziana le ha risposto che non aveva nulla da darle ma l'ha comunque invitata a sedersi e le due hanno chiacchierato di alcune immagini sacre appese alla parete. La donna allora ha chiesto un bicchier d'acqua ma quando l'anziana è tornata dalla cucina portando anche dei biscotti gli ha detto che aveva cambiato idea e è uscita in fretta. Solo allora l'85enne si accorta che nella borsa mancavano alcune decine di euro, documenti e altri oggetti personali. Il fascicolo d'indagine è sul tavolo del procuratore aggiunto Walter Giovannini. È il momento della pagina sportiva a Pinzolo nel ritiro della Bologna. Oggi è stato il giorno della presentazione di Lukas Skorupski, il nuovo portiere rosso-blu. Allora andiamo a sentirne un piccolo strage. Buongiorno a tutti. Vorrei dire che sono molto contento che mi hanno portato qua. Ho firmato a contatto per un po' di tempo, cinque anni, quindi la ringrazio tutta la società per questa fiducia. Io sono venuto qua a lavorare duro e soprattutto cerco di giocare. Poi con il lavoro duro il mister deciderà chi deve fare titolare in Porta, ma io sicuramente farò il meglio possibile, quindi cerco di fare il primo portiere questa stagione qui a Bologna, ma ho molto rispetto per i miei compagni che siamo quattro portieri, quindi non è detto che subito faccio titolare. Come ho detto prima faccio lavoro duro e poi decidere a tutto il mister chi deve fare il primo portiere questa stagione. No, non è a rabbia. Ho lavorato con lui tutto l'anno, abbiamo lavorato tutto l'anno benissimo, siamo molto molto amici, ci sentiamo spesso. Non credo che questo anno, anche stando nelle spalle su UE, che ho giocato pochissimo, praticamente ho fatto solo due partite, non credo che questo anno era perso perché facevo sempre allenamenti al 100% tutti i giorni, quindi penso che anche ho migliorato. Questo anno magari avrò più possibilità di dimostrare al campo che portiere sono e speriamo che andrà tutto bene e che faremo grande stagione. A margine della presentazione del portiere ha parlato anche il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, l'ha intervistato per noi e per voi, Filippo Cotti. Ma quello che potrà essere il mister lo vedremo nel corso della stagione, ovviamente lui ha avuto anche una grande umiltà nel scegliere un percorso molto difficile, che era quello di partire dalla Lega Pro, soprattutto per uno con il nome che ha lui e con la carriera che ha avuto da calciatore. Questo dimostra sicuramente che credeva molto nel proprio lavoro, che pensava che scendere fosse solo un percorso di formazione per poi risalire. I fatti gli hanno dato ragione negli annati precedenti e vedremo in questa quello che gli darà. Noi vi assicuro che abbiamo puntato su di lui, non solo per l'entusiasmo, per questa forza o per questa grande capacità energetica che lui ha, ma il mister sta dimostrando, io l'avevo già visto nel Venezia, però lo sta dimostrando qui, credo anche ottime idee di calcio, anche grande preparazione sua e del suo staff nella preparazione tattica della squadra. Io penso che il lavoro darà i suoi frutti, ovviamente la categoria, la Serie A è molto difficile, vedremo poi sul campo insieme a quelli forti del nostro livello come andranno le partite, però insomma in questo momento c'è sia tanta energia, tanto entusiasmo, ma anche preparazione. Il calcio è già partito, le squadre di calcio sono già partite per i rispettivi ritiri, ma partiranno poi anche quelle del basket, in particolare la fortitudo che torna a Lizzano in Belvedere. Noi nell'occasione di oggi della presentazione del wifi gratuito in Emilia-Romagna abbiamo chiesto qualcosa proprio sul ritiro della fortitudo a Lizzano al sindaco di Lizzano in Belvedere e allora l'intervista al sindaco Torri e di Mario Giulianti. Sentiamo. Non vediamo l'ora, devo essere sincera, stiamo aspettando con ansia la fortitudo, la squadra, i tifosi, la fossa. Per noi sono momenti di grande festa quando arrivano e quindi insomma un sodalizio che speriamo continui sempre e che possa magari quest'anno dare uno sprint in più a questa squadra che ci fa morire, ci fa gioire, ci fa soffrire, ma che amiamo infinitamente. È un legame vero, un legame d'affetto, di stima, di stima reciproca penso tra noi come amministrazione comunale, con il presidente, con tutto lo staff, ma proprio un amore per un modo di giocare e per un gioco di fare sport che coinvolge tutti. Insomma siamo persone, credo sia noi che la fortitudo, che amano la vita vissuta bene, insomma. La montagna permette di vivere bene e penso che questa cosa davvero si sia innescata positivamente. Io devo stare un pochino attenta perché questa mia amore insomma che va al di là di quella che è la formula istituzionale a volte rischia di, vorrei far notare i capelli, stiamo lavorando fortemente per essere pronti ad accoglierla nel miglior modo possibile, anche perché davvero per noi è una promozione, insomma, come stiamo tentando di fare un po' in tante situazioni con la città di Bologna, insomma, con le squadre del Bologna, perché per noi farci riconoscere come luogo che la città sceglie per le proprie iniziative è strategico, quindi ce la metteremo tutta anche quest'anno e sappiamo che ci divertiremo. Le sensazioni per l'anno prossimo? Ma insomma abbiamo visto una squadra che si sta completamente ridisegnando e c'è un po' di di dispiacere per quelli che erano i legami che un po' si erano costruiti con tutti questi ragazzi della squadra, perché la squadra da Fortitudo ha di sé di particolare proprio questa capacità di essere un tutt'uno, però insomma abbiamo grande fiducia nella società, grande fiducia del nuovo allenatore e quindi noi siamo positivi e saremo a palazzo e combattivi come sempre. Era il nostro ultimo servizio, il telegiornale termina qui, grazie di averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.